Rettendolo sperare urgentemente Urgentemente Rettendolo sperare urgentemente Argommenti convincenti E buoni proponimenti Nell'attura del momento Prima del miglioramento Nell'attura del miglioramento Nell'attura del miglioramento Rettendolo sperare urgentemente Urgentemente Rettendolo sperare urgentemente 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 Pretendo sperare urgentemente Urgentemente Esa speranza 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 Vox Populi da Napoli approdano qui nella navicella di Elpa una navicella che voi potete raggiungere Femmena, fermiamoci qui, Vox Populi Grazie 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 A presto A presto A presto